Sono ritenuti responsabili di rapina in concorso e tentata estorsione. Parliamo del 38enne Walter Bosco e del 41enne Alessandro Sguali, entrambi residenti ad Agrigento, e Antonio Sanfilippo di 21 anni, residente a Favara. Un quarto, BG di 22 anni, favarese, è stato invece sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Una quinta persona risulta indagata. Nello specifico, gli arrestati sono accusati di una rapina gravata in concorso commessa il 31 luglio scorso ad Agrigento e di una estorsione in concorso commessa l'11 agosto, sempre di quest'anno, a Favara. Ad eseguire gli arresti, questa mattina, la squadra mobile di Agrigento, diretta dal dottor Giovanni Minardi, su disposizione del GIP del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto, a richiederlo la Procura della Repubblica di Agrigento ed il PM Brunella Sardoni. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la vittima, un trentenne favarese, avrebbe concordato la vendita della propria moto, un'onda CBR 600, ad Antonio Sanfilippo per 4.000 euro. La somma è stata ritenuta troppo esosa dagli odierni arrestati, i quali hanno raggiunto la vittima al villaggio Mosè e l'hanno rapinata della moto, senza versare alcuna somma di denaro, per poi, nel mese di agosto, fare il passaggio di proprietà. La moto oggetto del contendere, comunque, era già stata rimessa in vendita ed è stata recuperata dai poliziotti in una concessionaria di Favara. Gli arrestati si trovano tutti in regime di arresti domiciliari. L'attività investigativa nasce dal fatto che siamo riusciti ad avere la notizia di questo tipo di aggressione con la contestuale rapina di questa moto. Da questo tipo di attività, contattando la vittima, siamo riusciti a delineare il quadro iniziale e da lì siamo riusciti ad arrivare all'individuazione di tutti gli autori e alla contestazione dei reati odierni. Chi ha determinate problematiche di questo tipo, comunque, nel momento in cui si rivolge delle forze dell'ordine alla squadra mobile, nel caso specifico nostro, sicuramente può avere delle risposte e dei risultati positivi che lo sottraggono al gioco di determinate situazioni e prevaricazioni.